Ciao a tutti amici unicornosi e bentornati sul canale Oggi ci troviamo nella seconda parte del capitolo 3 su Hogwarts Mystery Per chi non ha visto, non si ricordasse, l'ultimo video su Hogwarts Mystery è stato quello dove ha iniziato il capitolo 3 Ma visto che era troppo lungo, ho voluto dividerlo in due video Ecco qui la seconda parte E vi metto qui, accanto sulla schermata del video, il link per andare a vedere la parte 1 del capitolo 3 Ma ragazzi, non ho compagni di stanza Beh, se io clicco più con la zampa Niente in possesso Acquista questo gatto per... Wow Cioè io lo posso acquistare però Sono gli acquisti in app In futuro potrò avere... Oddio mi ha dato in automatico il top, perché? No, ditemi che credo Continua a giocare per sbloccare questo animale Ah no, vedi Questi si pagano... No, non sono acquisti in app, ok Beh no Però che bello almeno Mi dice continuare a giocare e sbloccare questo animale Vuol dire che poi... Cioè... Ah no, ragazzi Sapete che voglio fare? Tra i vestiti Dov'è quello che ho sbloccato? Ecco Ok Faccio questo nuovo Che è più carino perché... Aspettate! Mi ha fatto selezionare Il topo Come faccio a levarlo? Vado su compra? No Immuovi ed esci No, non mi ha salvato Aspettate, scusate ragazzi Vabbè, lo faccio dopo Mi cambio dopo E... Che posso cambiare il mio letto? No, non posso ancora Materasso e cucino Vabbè Ma posso uscire Prende di tutto Ma che figata 5 libri Wow, la roba si paga Pure quei libri Beh, mi sa Per ora non posso Pagare nulla Però è carinissimo Non posso pagare Non posso cambiare nulla Del mio arredamento Ho già tutta questa Ho già Questo, vabbè Allora esco E... Come prima cosa mi cambio Perché Voglio mettermi il mio nuovo completo Ho deciso Ho deciso troppo Ok Fatto Accetta Eccomi Sono più carina Più Poi più Invernale Perché ora ci troviamo Tra poco e primavera Verso Il 20 marzo Primavera Quest'anno Però diciamo che comunque È ancora inverno Quindi Vestiamoci A maniche lunghe Ora Io devo andare a fare lezione Evoca la scopa Perché se no Non andiamo più avanti Territori del castello Questo Ah più tardi no Vuoi adottare questo animale Magari lo vorrei Vabbè Campo di allenamento Evoca la scopa Dai Nuova lezione Campo di allenamento Ragazzi Voglio raccontare una cosa veloce veloce Che io tipo Quando ero piccola Che Quanto c'avevo avuto Sei anni Boh Giocavo a Wars Mystery Però tipo Rimanevo bloccata Al punto Questo qui Non so perché Ora speriamo di andare avanti Questa Madame Hawk Mi pare si chiamasse Madame Hawk Sì Hawk Vabbè Benvenuti Alla prima lezione di volo Sono Madame Hawk E sarò la vostra insegnante Ben Ho attemuto Questa lezione Per tutta l'estate Hai paura delle altezze Più che altro Ho paura di cadere Vengo da una famiglia di babbani E l'idea di volare su una scopa Mi terrorizza Inizia Abbiamo tre ore di tempo Ma Credo che in tre ore ce la facciamo Poi Non posso far durare il video tre ore Cura e manutenzione della Scopa Ho detto bene Madame Hawk Oggi impareremo a chiamare la vostra scopa Una scopa ben tenuta E una scopa più rapida Torna al banco Per la cura delle scope Ok devo cliccare Guarda Ricorda Pensa Comprendi Mi ho fatto tutto Una stella ottenuta Oddio sì Una ricompensa Ehm Andiamo Le gemme E no le gemme Le monete Magari riusci a comprarci qualcosa Un bello strato di lucido Darà una grossa mano Applica lucido Traccia il percorso Per applicare Uno strato uniforme Ok Lucidiamola bene St'oltre non faccio guai Perché sennò perdiamo altri punti Per favore no Ok Dieci punti E ora Cinque monete Su Scopa La lezione è terminata No Ben Madame Oak ha ripetuto più volte questa cosa Di cadere e morire Speriamo di no Certo Però che se non volo Non devo preoccuparmi di cadere Devi solo abituarti all'idea di volare Ben Sono sicura che Rowan Abbia qualche libro Sul volo da prestarci Ma sembra che Rowan Se ne sia già andata A dire il vero Devo andare a controllare Rowan Abbiamo avuto un incontro poco piacevole Con il tranello del diavolo Eravamo tutte e due Talmente prese Dal chiamare le nostre scope Che non abbiamo avuto tempo di parlarne Io ero tutto preso Dall'evitare Merula Snide Anche io Ho una faccenda in sospeso con Merula Ma il tranello del diavolo Sono ancora più terrificante di Merula Io sono stato capace Di farmi cogliere Di sorpresa Perfino Da un ramoscello Di Di tamo Di tamo Allora Come Dove credi che sia andata Rowan? Forse in cortile Rowan Mi ha chiesto di andare lì A giocare a Gobbiglie Ma ho avuto paura Di venire schizzato Schizzato? Te lo spiegherà Rowan Dovresti proprio andare A gobbiglie Con lei Mi piacerebbe Svagarmi un po' Vado subito a cercare Rowan in cortile Evoca la scopa Fatto Giochiamo a gobbiglie Ci vediamo nel cortile Della torre Dell'orologio Vai Wow Slight Slithering Serpe verde Ma perché c'è questo Boh Incontra Rowan Vediamo un po' Allora Questo capitolo Non finisce più O è troppo lungo Oppure non l'ha iniziato Ma credo di averlo iniziato Se no Come facevo a giocare Andiamo Rowan Ben Ben ti ho detto Che cercavo Un avversario Per giocare A gobbiglie Mi fa piacere Che sia venuta Tu Ma Rowan Sei scappata via Dalla nostra Prima lezione Di volo Così all'improvviso Va tutto bene Per quanto Ci possa stare bene Dopo il nostro Terribile incontro Con il tranello Del diavolo Io Non me l'ho sentito Di parlarne A lezione Di volo E Merula Snide Non la voglio Nemmeno vedere Come si è permessa Di attirarci lì Con un messaggio falso Neanche io Mi sono ancora Occupata di Merula Già E sei tu Quella Che è rimasta Impigliata E come L'hai presa Il tradimento Di Merula E acqua passata Non finisce qui Non Finisce qui Comunque La cosa per me Non finisce qui Merula Non può continuare A infastidirci così Conta su di me Per qualsiasi cosa Posso servirti Posso servirti A fermarla E forse posso Già aiutarti Con Merula Che vuoi dire Rowan Volevo capire Perché Merula È una tale Bulla Perché ho fatto Delle ricerche Sulla sua famiglia Per provare a capire Perché agisce In questo modo E beh Ho scoperto Un terribile Segreto Sui suoi genitori Che segreto Ma non so Come posso dirtelo Davvero Non so se posso Rowan Per favore È una cosa seria Forse è meglio giocare A gobiglie È per questo Che siamo qui Giocherò Se mi permetti Almeno di convincerti A dirmi Quello che sai Interessante Sfida accettata Come si gioca A gobiglie A me Credo Si Dica Gobiglie Allora Come giochiamo È un po' come Il gioco Delle Biglie Dei Babani Solo che Ogni volta Che si fa Un punto Il perdente Riceve Uno spruzzo In faccia No Uno spruzzo Di cosa Nessuno Lo sa Ma Puzza Da morire Ah niente Io credo Di acqua Va bene Comunque Imparerò Mentre giochiamo Se questa interazione Andrà bene La tua amicizia Con questa persona Migliorerà Potrete andare Insieme all'avventura Gli attributi Di livello alto Miglioreranno La tua probabilità Di successo Inizia 10 Ma dai Ci fanno pure pagare Io che li sto mettendo A parte Per prendere un animale O comunque investire un uomo Beh Buona fortuna Flora A giocare a gobiglie Assieme Rafforzerà La nostra amicizia Ogni interazione Ha uno scopo diverso In questo caso Tieni la fiducia Di Rowan Mentre impari A giocare a gobiglie Vedi come si fa A vincere Scegliere Una risposta migliore Crescerà La tua amicizia E la tua abilità Di gioco a gobiglie Crea la pila Di gobiglie più alta Se vinco Dimmela tu Cattura Le gobiglie Del tuo avversario Cattura Le gobiglie Del tuo avversario Oh sì Ben fatto Su queste ragioni Flora Ben fatto Continuiamo a giocare Più la scelta Sarà migliore Più riempirei L'indicatore Di diamanti Tre diamanti Per superare Al posto delle stelle Come nelle lezioni Qui abbiamo I diamanti Scommetto che Merula Bara al gioco Barare È sempre sbagliato Che cosa Che cosa c'è Di così male Nel barare Qualche volta Tutti Barano Barare È sempre Sbagliato È vero Che qualche volta Barano un po' Tutti Però Barare È sempre Sbagliato Comunque È tenuto punti Bonus Per il tuo Alto livello Di ingegno Mi fa piacere Saperlo Sei bravissima Capisco Le gobiglie Possono avvicinarci E magari Vincerò la partita Quattro turni Ti fidi Delle mie ricerche Non finché Non mi avrai Rivelato Che cosa hai scoperto Sì certo No Potresti sbagliarti Sì certo Ben fatto Mi hai battuto Flora Sei stata molto brava Per essere la prima volta Giocavi a gobiglie Raccogli Oh livello 2 Di amicizia Hai migliorato L'amicizia Ora puoi portare Questa persona In avventure future Raccogli Bella partita Flora Alcuni pensano Che le gobiglie Siano un gioco Da imbranati Invece Secondo me Sono il quidditch Dei maghi Riflessivi È stato divertente Grazie per avermi Mostrato Come si gioca Dovremmo giocare Più spesso Voglio diventare Capitano della squadra Di gobiglie Di Hogwarts Un giorno Allora Cosa mi dici Di Merula Lei sarebbe Un pessimo Capitano di gobiglie È una tale Bulla Intendevo dire Ora Te la senti Di rivelarmi Il segreto Sui genitori Di Merula In effetti In effetti Sì Ti sei comportata Da buon amico Come me Con le mie ricerche Ho scoperto Che i genitori Di Merula Sono detenuti Ad Akskaban Sono rinchiusi Ad Akskaban Con quale colpa Durante la guerra Dei maghi Erano dalla parte Di colui Che non deve Essere nominato Mamma mia Ragazzi Cioè Io praticamente È come se Sto all'interno Del gioco E mi sto sorprendendo Di quello Che mi sta dicendo La mia amica Oh mio dio Questa sì Che è una cosa seria Grazie per avermelo detto Rowan Grazie per aver giocato Non sono mai stata brava A fare amicizia Io E te Abbiamo fatto un'amicizia Fino da subito Se lo mi ritengo Un'inutile pappamolle O una secchiona bizzarra Ma io e te Siamo strani Strane Allo stesso modo Senza offesa Lo prendo come un complimento Ancora Ma che meraviglia Ciao Ortiz Vedo che stai Meglio di quanto Mi aspettassi Dopo l'incontro Con il tranello del diavolo Sono sorpresa Che tu Sia sopravvissuta La nostra prima lezione Di volo Sono invece sorpresa Che tu Non abbia cenato Al tranello del diavolo Ero troppo impegnata Ad essere La migliore della classe Magari puoi levarti Di torno E andare A tenerti impegnato Da qualche altra parte Adesso Oh ma io sono stata Molto impegnata Mentre tutti Trastullavi Con le piantine Io ho fatto Qualche ricerca Su tuo fratello Perché non mi lasci In pace Perché tu Come lui Sei una minaccia Per Hogwarts E nessuno di noi Sarà al sicuro Finché sarai tra noi Ma di che cosa Stai parlando Merula Il fratello Il fratello Scuro Rivela Il segreto Il segreto Il segreto di Merula Ignorala Falla ragionare Ignoralo Farà ragionare Falla ragionare Non faresti meglio A trascorrere Il tuo tempo Convincendo tutti Che sei la più brava In ogni cosa Invece che In fastidire me Perché non ti ritiri Da Hogwarts Risparmi a Corvo Nero L'imbarazzo Di essere Associati al tuo nome Hai solo paura Che sarò migliore di te Paura Ti affronterò A duello Qui e ora Vattene via Lascia un incantesimo Vattene via Non intendo Perdere tempo con te O con le tue cattiverie Merula Non provare ad andartene Flippendo Studia qualche altro Incantesimo Ortiz E magari La prossima volta Sarai un avversario Decente Merula Non ci lascerà mai In pace A meno che Io non impari Altri incantesimi E trovi qualcuno Che mi insegna A duellare Qui Qui potrai controllare Le tue amicizie Con un'amicizia buffarte I tuoi amici Di accompagnare Erano in più avventure Rowan Ben Ah Continua a giocare Per sporcare personaggi Infatti sto dicendo Questa Bill Weasley Incontrerai Bill Weasley Durante l'anno V2 No Bill Weasley No Ok ragazzi Sono la persona Più felice del mondo Questi hanno tre Charlie Weasley Ragazzi 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 Ancora non sai Come avvicinarti A questa persona Ancora non sai Vediamo se c'è Qualcun altro Di famoso Oh Dio E George Weasley No 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 Vabbè No Vabbè Ragazzi Cedric Diggory Perché questo gioco È ambientato Prima Che Harry Potter Ando Hogwarts E quindi Cedric Diggory Qua è ancora vivo No vabbè Questo non so Chi sia Vediamo se c'è Qualcun altro famoso Rebus Hagrid No davvero Poi diventeremo amici Ok No perché Abbiamo incontrato Però non è che Ci ha stretto amicizia Beatrice Non la conosco Dobby Poi Non sai ancora Come avvicinarti A questa persona Più che persona Non sai ancora Come avvicinarti A questo Elfo Ragazzi Ma voi avete capito Che farò amicizia Con The Weasley In questo videogioco Capitolo 3 Completato Che bello Stavo dicendo Infatti Ma quando è che Completiamo questo capitolo Raccogli Magnifico Capitolo 4 Motivazione 2 del lanti L'ira di Merula Snide Ispira te E Rowan A imparare a duellare Come si vede Allora Questo capitolo Lo faremo nel prossimo video E questo video Sta venendo molto lungo Quindi ci vediamo Al prossimo video Dove farò il capitolo 4 O farò qualche unboxing Boh Non so cosa farò Però comunque Ci vediamo al prossimo video Ciao